Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di The Younger Games Sono sempre Alex Shalla ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Aspetta c'è uno che ci spara Con me c'è Fabi Matti, come ieri Salve E siamo qui su questa cazzo di mappa Dove già ci stanno ammazzando Mangiamola bellissima Ma io lo sto perciando Sì vai Questa volta registro pure io Questa volta ci sarà anche la visuale di Fabi Matti Che in descrizione come nell'altro video vi farò trovare il link Sono già morto Bam, morto, anch'io Siamo su un server pvp Che poi vi faremo trovare sempre il link in descrizione E inizieremo anche una serie noi due sulla exit Che lui già sta facendo una in single player Sì sta facendo già una serie in single player sull'exit Però visto che abbiamo scoperto che il pacchetto è molto interessante Anche non solo per fare È più bello fare un'avverte Non si possono fare tanti impianti Purtroppo però Per fare un'avventura Cioè sei davanti Per fare un'avventura è molto interessante Guarda sti proveri stronzi che si concentrano su uno solo Eh povera Oh io vado su questi Stronzo con la mela d'oro Mori, mori, mori Vieni qui pezzo di merda Oddio ma quanti sono sono morti Ah ok sono morto anch'io Comunque praticamente ragazzi Cominceremo questa serie a giorni Sperando che vi possa piacere l'idea E beh fateci sapere se volete più un'avventura Se volete che insieme faremo un'avventura Oppure se inizialmente cominceremo per cavoli per insieme E poi cominceremo a fare tipo battaglie uno contro l'altro Giusto per divertimento Ma comunque credo che l'avventura in due sarebbe più divertente Comunque sono riuscita ad ammazzarne uno Ok questo c'è il porcello Il porcello No no non più può uccidere Oddio quanti cazzo sono Io so tipo Bella un altro ucciso Tutti che cercano di prendermi con la spada Io con l'arco Gli scolpisco Ma quanti cazzo sono Ma porca miseria Ma vaffanculo Io ne ho uccisi Ne ho uccisi due tipo No ne ho uccisi tre Uno mi è morto Cioè ne ho ucciso uno Poi ne è dato un altro che mi stava Uno negato con l'arco Il bello ragazzi è che stiamo facendo una collaborazione Per ognuno sta per cazzi suoi E' fighissima Oddio quanti cazzo sono Scappa 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 E c'è una zanzara di merda vicino a me Che bello Oh non puoi Yeah E faccio la prima uccisione del video Ma quanti sono Via 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 Io ho fatto tipo la prima uccisione 20 secondi fa Ok sono morto Oddio c'è una zanzara che continua a pungermi Oddio Merda le zanzare Io le odio Chi è che non odia le zanzare ragazzi Tutti odiamo le zanzare No ma mi ha fregato la kill Non è giusto Si ormai Qui dentro solo questo si fa Cioè ma guarda Sono concentrati tutti insieme Si stronzi Eh lo so attaccano in brutto Io tipo sto sparando frecce Ma fino ad adesso Ho colpito solo due volte Oh inseriamo questo Che nome c'è questo C'è a lungo come No no ancora quello No 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 Mi va qui Oddio Non ammazzarmi Non ammazzarmi Non ammazzarmi Non ammazzarmi Yeah Ne ho ammazzato un altro Mori 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 C'è un sacco di gente Ma tanta tanta Oh via 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 al fogone no 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 non voglio crepare Già una bella mela d'oro Bezzo Non mi lasciano neanche Mangiare le mela d'oro Allora C'è uno stronzo Che vuole salire Guardate là E io lo becco Ah stronzo E' pieno di stronzo No Non riesco a uccidere nessuno Attaccano tutti in gruppo Non si capisce niente Si ma poi si concentrano tutti Su una persona Quello è il fatto Yeah Ne ho ammazzato un altro E sono ucciso Sono più Sono più tattici Eh si Io ne ho ammazzati tre o quattro Fino adesso Ah stronzo Vieni qua Vieni Ma come cazzo fai La dico io Crepa Ma chi cazzo è C'è uno stronzo dietro di me Che tipo Sta laggando E non mi vede proprio Oh sta laggando un sacco Bella l'ho ucciso Oddio Troppa gente Troppa gente Troppa gente Si ma in effetti C'è un bel po' Stiamo vincendo Di un bel po' Eh Siamo i rossi noi Ah Siamo leggermente perdendo Non è che stiamo vincendo Oddio Non sto capendo niente Ragazzi ragazzi Mi sto rincoglionendo C'è proprio nulla È bella che è morta Bella l'ho ucciso Finalmente Sto stronzo Mi sto sfuggendo Io veramente Non sto capendo niente Non sto capiscendo niente Oh merda Questa zanzara se ne va Che palle Proprio quando devo registrare Si inizia Eh si Quando le zanzare Non gli piacciono i tuoi video Che ci vuoi fare Ma che cazzo Sono spawnato Dalla loro zona Eh secondo me Perché sono Stanno dalla nostra Parte Allora hanno cambiato Gli spawn Eh merda Mangiamo una bella Mela d'oro Ragazzi Lo so che è una partita Di merda Ragazzi Non ci fate cazzo Ovviamente Stiamo facendo Le figuracce Ma questi Non muoiono Ma che cazzo È tipo una cosa Assurda Oddio ma quanti sono Oh c'è lag C'è lag Eh ma Quando ci sono tutte Ste persone Che diamine voi Sto continuando a morire Ne avrò uccisi Quattro Cinque o sei Però non riesco Oddio 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 Oh merda Bello è che Sparo proprio a cazzo Fortuna che non c'è Il più Non c'è Il fuoco amico Perché sennò Sai quanti amici Avrei ammazzato Fino adesso Con le frecce Che sto attirando Ma guarda lì Sti stronzi Che si concentrano Ma quanti sono Sono morto Sono morto Sono morto Anch'io No 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 ma che c'è L'ho salvato io No io no Porca cina Oh tipo Se trovi il gruppo Muori Dici sì Sì la voglia Che poi queste pozioni Non servono a un cazzo Ma che Dime di pozioni sono Ti dessero l'invisibilità Beh sì L'invisibilità sarebbe Una cosa stupidissima In questo caso Perché c'è Tu immagina tutti A prendere l'invisibilità Vabbè Bella Oh l'ha ucciso Con l'arco Grande Quando gli ho dato un colpo L'ha ucciso Che culo C'è qualcuno che Che mi sta colpendo da dietro Eccolo lì Ciao sono morto Sono morto Sono morto Ciao a tutti ragazzi Io li sto frecciando tutti Io tipo andavo in retromarcia E sparavo frecce Mamma mia Stiamo perdendo di 50 punti Mamma mia Ma da Dove cazzo è quello? C'ho tipo uno che mi Mi sparisce davanti Yeah morto Perfetto Perfetto M'ha ucciso Allo zombie Oh Cristo Quanti sono Ma No questa zanzera Se ne va Un minuto e finisce la partita Ragazzi Un minuto Dai Ma che cazzo succede? Non sto capendo niente Oddio Me l'adoro Me l'adoro Me l'adoro Et voilà Ammazzata Cioè questi ammazzano e scappano Ti becco Ti becco Ti becco Ti becco Io sono dietro di te Stiamo inseguendo lo stesso Sì Lo moshiroc Qua come cazzo si chiama lui Eh non lo so Sì Ti sto tipo a fianco Lemonian Muori sto Stronzo Vai vai Ammazziamolo 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 Sì Grande L'ha ammazzato The creeper mates Gli ha fatto hermates Gli ha fatto hermates Ma Ci crepiamo Qui ci crepiamo Ci crepiamo No Ok è finita È finita la partita Yeah ragazzi Entriamo in un'altra partita E riprendiamo il video Fra pochissimo ragazzi Eccoci di nuovo qui ragazzi Abbiamo cambiato server Siamo su un diverso tipo di Hunger Games Qui è il solito Hunger Games Dove devi sceglierti il kit Farti le armi Solite cose Ed eccoci qui Abbiamo cominciato Andiamo subito verso sinistra Vai Spacca arriva Certo certo Andiamo verso sinistra Dove abbiamo visto di andare prima In modo di andarci a prendere Legno Porchi E cazzo di varie Abbiamo scelto il kit Archer Sì sì Ci sono a disposizione Quanti kit? Sono quattro se non sbaglio Sì quattro Però sinceramente Li ho provati Allora uno ti dà le palle di neve Ed è la cosa più inutile Che esista Un altro ti dà Tipo non mi ricordo che cosa Addirittura uno mi ha dato solo la bussola Secondo me avevo dimenticato di metterlo Uno ti dà un bottone Ah bene Vabbè non ti preoccupare Anche se la prendo io Dopo te la do Non ti preoccupare Ok va bene Stiamo uccidendo Dai poveri porchi Che non so Sì perché Già io già sto morendo di fame Un altro po' E pure io Dai cazzo Muoviti In quanto muoiono? Buono non lo so Ma tanto comunque Dai Me la dai Grazie Ok io ce n'ho una Perfetto io ce n'ho sei Andiamo Vabbè andiamo Penso che per il momento Possano abbastare Vai continua sempre verso sinistra Tanto dobbiamo arrivare agli alberi Ok ti vedo Ti vedo Sono alla tua sinistra Perfetto Dobbiamo arrivare agli alberi Quelli di prima Perché almeno una spada Ce la dobbiamo fare Perché con l'ottore frecce Non andiamo da nessuna parte Ma perché non mi carica il mondo Mamma mia Oddio che volo Vabbè perché c'è l'immortalità Sì c'è tipo l'immortalità per due minuti Comunque anche di questo Vi faremo Vi lasceremo il link in descrizione Sì Quasi sono sempre Sempre liberi Questi qui sì Non sono come quello là Che devi scegliere il server No basta entrare E ti butta direttamente lui dentro un server Oh ce n'è già uno Perfetto Io ho trovato Già il link C'è una spada Tu fammi la spada Io intanto curo questo Mamma mia Oh Stronzo non ti muovere Perché lì Lì muori No no Hai capito male Muori muori Oddio sta per finire l'immortalità Vediamo di muoverci No no se ne va Se ne va Vabbè Ho sprecato una freccia Dove sei? Sono dietro di te Sto facendo le spade Ok no no si ti ho visto Intanto ti curo Ok Oddio ne devo fare due Me l'ho dimenticato Ok Facciamo Ma anche di legno va bene Sì sì vabbè Ma prendiamo anche un po' di pietra Tieni te l'ho buttata per terra Sì sì lo prendo per terra Faccio un attimo un piccone così Fottiamo un pochino di terra Mi puoi dare due bracciole Sì sì certo Tieni Tieni te ne ho date tre Ah vabbè Una in più No vabbè tanto ce ne avevo sei per cui Ok Adesso ci abbiamo la spada Possiamo ucciderlo più Intanto cerco magari qualche porco Sì nel frattempo sto facendo il piccone Per prendere un po' di legno Eh un po' di pietra Oddio Attento al buro qui U ce ne sono due Attento Dove? Vieni 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 da me Ce ne sono due qua Vabbè l'importante è che non ci attaccano Dove non li pensare Però li Li curo eh Sì se no Oddio ma sono in tre Ma quanti sono? Allora sono 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 in tre Perfetto Oddio se ci attaccano siamo un po' Siamo leggermente fottuti Eh leggermente Oddio ci attaccano con le frecce Cerca di allontanarti Vabbè non li fai Io ti sto facendo la spada in pietra Ok buono Merda ci stanno colpendo ma non Non sanno manco Tieni tieni Te l'ho buttata per terra Sì sì Ok Che dici Camperiamo oppure Andiamo a ucciderli direttamente? No andiamo da un'altra parte Perché perderemo Ok prendiamoci sta cosa Andiamo a cercare Andiamo a cercare un po' di cibo Ok Io tipo ieri Da solo Senza registrare Ho fatto tipo sta partita Che è durata tipo 20 minuti E ho camperato come un pazzo Mi sono fatto tutta l'armatura La spada di ferro Eh Ovviamente non staremo lì a A proposito Poi io c'ho A rendere distanza Distanza Sì distanza Distanza normale Non mi lagga Non mi lagga niente Io dovrei avere il massimo Però Il fatto è che Comunque questo server Carica In due ore e mezza Che è successo? Non andare di lì Ah sì Perché c'è la fine del mondo La fine del mondo Il limite del Del coso Le prime volte morivo Non capivo perché Eh sì Pure io ieri Tipo mi sono allontanato tantissimo Ok Allora andiamo a ucciderle Ok dai Vediamo un po' Il primo che mi Oh Cristo Stavo andando a finire la lava Senta No è perché tipo Mi carica il mondo Lentamente Proprio lento 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 È un po' anche a me Adesso sì Anche a me Prima Prima Uh altre frecce per me Mi hanno regalato Andiamo lì Sono ancora lì Sì ma sono troppi però Non credo Riusciamo a fare chissà che cosa Cioè sono quattro Ah no Allora no Eh sì Ho colpito te Levati Oddio sono morto Sono morto Via 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 Corri corri No 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 Ho mezzo cuore Vai scappa 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 Via 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 Oddio Che culo Dobbiamo trovare qualcosa da mangiare Perché io sono tipo senza niente Eh io Anch'io L'ho usata per rigenerarmi un po' la vita Però no Neve ci dovrebbero essere molti porcelli Speriamo Non è stata una bellissima idea Andarci libero Eh sì Oddio ma perché non mi carica il mondo Ma dai muoviti Ok no Non ci seguono Io non posso usare Ecco i porchi Ecco i porchi Ecco i porchi Dove Qui qui Ah Non cogli avevo visto Vai ammazziamoli tutti Non ti mettere davanti Se no ti colpisco Ma non mi ha dato le Secondo me le ha date a me Sì infatti ce n'ho nove Ah caspita che le ammazzo Non mi colpino Non mi colpisco Ok Ok io ci ne ho tre Sì però mi sa che dobbiamo Se prendiamo un pochino di pietra Non è che ci dispiace la cosa Così facciamo la fornace Eh sì C'ho anche un pezzo di legno Quindi io intendo ammazzo gli altri porchi Sì sì vai vai Sì guarda là Cioè che culo Con tutto quello che potevo trovare Ho trovato la grave Che sfiga Possiamo farci Se trovi un pezzo di ferro Il flint L'accendino tipo Sì È molto utile Diciamo Dai su muoviti 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 Hanno fatto Hanno messo le Oh ci sono anche delle mucche Perfetto uccidi tutto Uccidi tutto Magari troviamo la pelle Ci facciamo pure Qualche armatura del caos Puoi andare alle ceste Hanno fatto le ceste Sì ci sono le coordinate Guarda Apri la ciappa Sì ho visto Ho visto Sì ma non credo Cioè riusciamo a fare qualche Sto un attimo sotto terra No vabbè Sto prendendo Eccomi qui Io c'ho Dieci bracioli di maiale E dieci Oddio Mi è sparita la crafting No ce l'hai in mano Oddio Ah no ecco Adesso sta per terra Boh Sì vuoi Io te la vedevo in mano Non lo so Io l'avevo posizionata Ah Spera che metto anche le mie Metti prima quelle di porco Sì Sì ma abbiamo bisogno Di un po' di legno Però qua Eh l'ho già messo Un po' di più Usiamo le spade Al massimo quelle lì di legno Ah sì ok Perfetto Qui c'è un altro porco Ci sono degli alberi Vediamo Intanto Tu rimani lì Non ti muovi Vedo se riesco a Tre qualche albero Tutto qua Eccole qui Comunque Questi degli Hunger Games Sarà una serie Abbastanza Che andrà avanti Però abbastanza Sì a voglia Ok Tanto Tanto non c'è una fine Non c'è Non ci sono obiettivi È solo divertimento Perfetto Io ho preso un po' di legna Mi sa che Quei quattro Non resisteranno Per un bel po' Perché Ma solo perché Erano in quattro Perché saranno in gruppi da due Magari ce la facevano Eccomi qui Sto arrivando Ok Teniti le altre Ne ho cinque Io tanto Ok Poi facevo anche quelle Comunque c'è un livello io Già Io ce l'ho quasi Allora cominciamo a mangiare Ma non c'è Ma non c'è mai arrivato Lì Non lo so Forse Cocendo le bistecche Eh può darsi Perfetto Io che prudito Dai su Facciamoci queste bistecche E poi ce ne andiamo La tieni anche queste? No sono crude Dobbiamo cuocerle Eh sì Quale di muc Allora io prendo altri due Facciamo un'altra fornace Ma chi se ne frega Tanto Così velocizziamo Esatto Sarà è bello fare anche Dei younger gaming Che si chiamano The walls Ma me ne proveremo anche quelli Perfetto Come siamo da qui dentro Tanto qui non ci vengono Ad attaccare Per cui Oh ecco Dove 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 Oh Oh No 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 Ma che cazzo No ma dai Mi hai ammazzato tu Sono morto Vabbè ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Come al solito Lasciate un mi piace qui sotto Un commentino Se avete qualche consiglio O se avete da dire qualcosa Eh Salutiamo Fabi Matti Salve E noi ragazzi Ci vediamo nella prossima puntata Io sono sempre Alex Scialla Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti